La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Stiamo sempre nell'ambito della sostenibilità, però cambiamo leggermente il settore, ovvero quello della produzione dei mezzi di trasporto e il premio è eccellenza dell'anno, innovazione e sostenibilità, produzione e mezzi di trasporto. Lo dico all'americana, Manuela. E il winner è Carlo Rampini. Ecco, arrivano per ritirare il premio, leggiamo naturalmente anche il perché di questo riconoscimento per essere un'eccellenza italiana dal 1945 nella produzione di mezzi di trasporto, per aver sempre puntato sull'innovazione tecnologica e di processo per l'attenzione costante verso il cliente attraverso l'offerta di servizi su misura per la trasparenza del proprio operato, la qualità e l'affidabilità. Complimenti a voi. Dal 1945, insomma, è veramente tanti, complimenti. Se questo non è consolidamento, eh sì, complimenti. Siamo in compagnia di Andrea Rampini, consigliere delegato di Rampini Carlo. Benvenuto. Grazie, buonasera. Mi congratulo innanzitutto con lei per il premio che avete ricevuto e le chiedo un commento a questa vittoria. Beh, sicuramente ricevere questo premio per noi è molto importante, è una gratificazione. Essere considerato un'eccellenza tra le tante aziende italiane che compongono il tessuto economico è sicuramente una gratificazione importante. È doveroso da parte mia, ovviamente, ringraziare chi ha contribuito a raggiungere questo risultato. Devo iniziare sicuramente da tutti i nostri presidenti che nel tempo si sono susseguiti al comando, alla direzione dell'azienda e grazie a loro e alla loro visione siamo sempre riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti nel tempo. Sicuramente non possiamo non ringraziare i nostri dipendenti, i collaboratori, sempre grazie a loro, al loro impegno quotidiano. Noi oggi siamo considerati un'azienda leader nel nostro settore tecnologico. I nostri clienti poi sono la nostra risorsa più importante. Sono quelli che ci hanno dato fiducia dall'inizio, quando gli proponevamo progetti innovativi, tornando da noi, quindi riconfermando quella che è la fiducia e dandoci importanti riscontri e soprattutto riusciamo con loro a realizzare delle collaborazioni a lungo termine molto profiche con noi. Gli stakeholder in generale poi sono quelli che ci supportano e ci hanno supportato e continueranno a supportarci in questa crescita che da tempo l'azienda ha intrapreso. Ecco, le chiedo quali sono questi progetti importanti che state portando avanti, anche quelli del futuro, della Rampini? Beh, noi siamo un'azienda molto dinamica, non siamo un'azienda che si limita al semplice sviluppo dei prodotti che ha nel proprio portafoglio. Noi andiamo sempre alla ricerca di nuove opportunità in mercati adiacenti, complementari, in modo da completare la gamma prodotti e l'offerta che possiamo dare ai nostri clienti. Sicuramente in questo momento il nostro maggior effort è sul settore della sostenibilità ambientale. Noi siamo coinvolti, siamo impegnati già dal 2000 in questo settore. Noi già dal 2000 abbiamo presentato la nostra gamma di veicoli a impatto zero. Eravamo pronti sul mercato con dei veicoli testati ed affidabili quando ancora i nostri competitor non avevano percepito l'opportunità. È da due settimane la notizia che abbiamo presentato tutta la nuova gamma prodotti dove all'interno compare l'autobus a idrogeno che è un nuovo prodotto per il mercato, nuovo per il mercato ma non per la nostra azienda. Infatti noi è già dal 2010 che avevamo sviluppato un primo prototipo che ci ha consentito di acquisire i know-how e conoscenze e offrire nuovamente una soluzione ad alto valore tecnologico pronta per il mercato. L'idrogeno al momento per noi è la sfida del futuro. Crediamo molto in questo settore. Non dobbiamo comunque dimenticare l'altro core business dell'azienda che è il settore difesa dove, non mi posso dilungare molto, ma ovviamente anche lì siamo riconosciuti come un'azienda leader, un partner affidabile dai nostri partner a livello di Leonardo, Finmeccanica, Thales, MBDA e aziende straniere. Dove sarà la Rampini tra dieci anni? Questa è una domanda molto difficile, bisognerebbe avere la palla di cristallo. No, noi siamo un'azienda con spirito pionieristico, noi amiamo le sfide, quindi sicuramente andremo a cogliere nuove opportunità, cercheremo nuove sfide e cercheremo di essere un passo avanti rispetto ai nostri competitor, questo grazie anche a ingenti investimenti, ricerche e sviluppo che stiamo già facendo da diverso tempo. In tutto questo sicuramente il giovane spirito del nuovo management aiuterà, perché siamo convinti che una visione giovane possa percepire nuove opportunità in modo diverso, ma non solo, possa anche percepire nuove opportunità nei settori che già stiamo cogliendo. L'ho detto all'inizio, siamo un'azienda pionieristica, il nostro spirito è di pionieri e amiamo le sfide e continueremo ad accogliere le sfide che ci verranno presentate.